Come hai visto i tuoi compagni? No, purtroppo la partita contro Pozzuoli l'ho giocata pochissimo, tipo 10 minuti perché poi mi sono fatto subito male, sfiga vuole, e adesso sto cercando di recuperare al massimo e tutto ma sicuramente domenica ci sarò in campo, è quello che voglio aiutare i miei compagni perché poi comunque anche questa settimana hanno lavorato sodo, ci sono andati dentro un sacco, c'è stato molto agonismo negli allenamenti, nessuno voleva perdere, volevano vincere tutti e anche io fuori dal campo alla fine mi sono fatto coinvolgere, esultavo quando si segnava un canestro importante, comunque anche se era solo allenamento, ma questo vuol dire tanto, questo vuol dire quanto ci teniamo a far sempre bene e a portare sempre a casa il risultato, anche in allenamento vuol dire che c'è agonismo e è sempre una buona cosa. Che partita sarà quella con Bisceglie? Affrontiamo una squadra attrezzata per il campionato, hanno delle individualità importanti, che cosa dovrà fare la Virtus per impensilire la squadra avversaria e soprattutto per risordire al meglio davanti al proprio pubblico? Bisceglie è una gran bella squadra, hanno molti giocatori di categoria che sono anche molto esperti, poi hanno anche dei giovani che conosco molto bravi, sono una squadra molto forte diciamo, è una delle più forti del campionato e venire qua a Cassino per loro non sarà facile perché davanti troveranno una squadra che non molla fino all'ultimo, e l'unico modo per riuscire a batterli è tutto, bisogna mettere sempre il massimo in difesa e colpirli nei punti deboli perché comunque tutte le squadre hanno dei punti deboli e bisogna sfruttarli a nostro favore. Nella precedente partita abbiamo realizzato 65 punti, un dato che deve essere sicuramente migliorato, soprattutto tra le mura amiche. Sì, non abbiamo avuto buone percentuali contro Pozzuali, però comunque alla fine si era sempre costruito un buon tiro e tutto, perciò il punteggio poi secondo me lavorando sodo come stiamo facendo aumenteranno le statistiche pian piano andando avanti nel campionato, basta avere pazienza secondo me e tutto viene da sé. Allora io ti ringrazio, ti faccio il mio più grande in bocca al lupo e ci vediamo domenica. Grazie. Con il playmaker della Virtus Cassino Simone Manzo in vista della partita contro Bisceglie, allora Simo anche tu hai riportato sfortunatamente una contusione al ginocchio in allenamento, anche tu sei a metà servizio in vista della partita contro Bisceglie, come hai visto i ragazzi in settimana? Naturalmente è stato uno scontro sfortunato sotto canestro il tuo, insomma speriamo che potrai scendere in campo al meglio possibile. Quali sono le tue sensazioni e quelle della squadra in vista della partita prossima contro Bisceglie? Allora sì, diciamo che sta una settimana un po' sfortunata perché come il mio compagno Fioravanti ho avuto un piccolo problema che mi ha tenuto fermo tutta la settimana. Ora devo aspettare i risultati della risonanza però va sempre meglio quindi sono positivo e credo, penso e spero di riuscire ad esserci tranquillamente per la partita di domenica. Ho visto per quanto riguarda i miei compagni, si è lavorato molto bene durante la settimana, tanta intensità, tanto agonismo e sicuramente molti aspetti positivi dato che si è visto che anche nelle partite di allenamento non si vuole perdere per alcuna ragione al mondo e anche da fuori mi sono sentito coinvolto anche perché l'agonismo mi è stato trasmesso nel vedere i miei compagni dare tutto anche in allenamento. Perciò diciamo nonostante Bisceglie sia una squadra molto molto buona e diciamo tra le favorite per il campionato ci sono buoni presupposti e buone basi per fare molto bene anche questa domenica. Come al solito noi daremo sempre il massimo. Sì, cercheremo di dare il massimo, questa volta speriamo di portare i punti a casa, la prima vittoria stagionale, ritorniamo davanti al nostro pubblico, insomma siete emozionati anche per questo aspetto che farete il vostro esordio in casa davanti alla gente di Cassino? Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché anch'io personalmente avendo giocato contro il Cassino qualche anno fa conosco il calore che vi è qui, quindi siamo carichissimi e felicissimi appunto di poter giocare davanti ad un pubblico così. E sicuramente rispetto a molte altre piazze può essere e sarà sicuramente il sesto uomo in campo e per questo so che ci sarà molto molto d'aiuto per questa partita e ovviamente per tutte le partite che verranno in casa e fuori ovviamente. Per chiudere ti chiedo che cosa dovrà fare la Virtus per portare a casa i due punti, giochiamo contro una delle squadre più esperte, abbiamo detto anche poc'anzi con Matteo, di questo campionato e un appello naturalmente ai nostri tifosi per sostenerci in massa domenica. Allora sicuramente dovremo giocare molto sull'intensità perché comunque sia è una squadra che ha ritmi bassi e ha molta molta esperienza e dovremo come ha detto il mio compagno in precedenza difendere forte perché abbiamo tutte le caratteristiche e le potenzialità per farlo e sfruttare ovviamente i nostri punti di forza limitando i loro. Aumentare ovviamente le percentuali delle quali abbiamo risentito nella partita con Pozzuoli però sono sicuro che se faremo tutto ciò, se seguiremo le direttive faremo molto molto bene. E ai tifosi posso dire solamente di seguirci e sostenerci sempre perché noi per questa maglia daremo sempre il massimo e faremo il possibile per non farvi mai mancare nulla. Grazie Simmo, in bocca al lupo anche a te e ci vediamo domenica. Grazie. 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 Grazie.